Mi permetto di allontanarmi un attimo dai temi di campo, le chiedo come ha ricevuto lei e come ha accolto personalmente gli avvenimenti tragici che si sono verificati negli ultimi giorni in Ucraina e insomma domani poi verrà come gesto simbolico posticipato anche il calcio d'inizio della partita. La guerra l'ha vissuta io su pelle mia quando la Croazia è stata attaccata e si è difesa con le unghie e con le armi abbiamo difeso le nostre case come ora sta succedendo in Ucraina e dove al mondo si è messo a guardare per tanti anni si è messo solo a guardare, io spero che questa guerra finisce prestissimo perché è una cosa che non può esistere a giorno di oggi. Cosa si porta dietro dell'incredibile partita dell'andata? Se deve pensare all'andata, a questa rimonta clamorosa. Una partita rara ecco, di due tempi diversi, di una grande rimonta secondo me fatta fuori casa ti succede una volta in dieci anni a casa magari si può succedere una volta ogni paio di anni tre punti dove erano guadagnati un momento dove Venezia stava andando forte ecco erano tre punti importanti perché a volte per crescita di una squadra servono anche le partite di quel tipo là secondo me quella vittoria fatta in quel modo in quel momento ci ha aiutato anche a crescere un po' Ister, quante possibilità coppola di partire dall'inizio? C'è una bella possibilità perché come già sapete ci mancano due squalificati difesa e vediamo ancora chi scegliere comunque avranno spazi i giocatori che magari non hanno avuto finora io sono molto contento per loro perché è giusto che che nell'arco di una stagione quando capita momento va sfruttato da quelli giocatori io li ho visti bene tutti quelli che sono in sono in soluzioni per domani ecco li ho visti tutti bene io mi aspetto che fanno una bella gara domani Allora parlavamo della partita d'andata con il Venezia il Venezia è stata forse la squadra che in avvio di gara ha messo più in difficoltà il Verona quindi questo è anche l'indice di una squadra che ha dimostrato nel corso della stagione di avere una fortissima identità e una grande qualità anche tattica non so se concordi su questa lettura e anche come la inquadri quindi verso la gara di domani Una squadra che è fatta bene con giocatori forti e secondo me ha anche investito soldi importanti se non sbaglio cioè perché alla volta si pensa perché una squadra viene in serie B l'anno scorso che non ha investito soldi però mi sembra che là si sono investiti soldi anche importanti ecco allora una squadra forte insidiosa pericolosa tosta io domani tutte queste parole che ho detto aspetto una partita di quel tipo là che non sarà facile noi dobbiamo stare al nostro 100 se vogliamo far uscire la nostra qualità dobbiamo stare al nostro 100% da punto di vista agonistico e ho già parlato oggi della squadra in questa direzione qua perché se non stiamo là è una partita può diventare anche una brutta partita è una partita pericolosa siamo preparati e domani le tre aspetto che le facciamo delle nostre cose domani in caso ovviamente di vittoria saliresti a 40 punti mi dici che cosa significherebbe anche per te per la squadra per la situazione che hai trovato all'inizio raggiungere questo obiettivo con così tanto anticipo mister sarebbe una bella cosa come dice probabilmente quella cifra là però sicuro se c'è la già consapevolezza che l'abbiamo fatta ecco perché poi mancano 12 partite non è che non facciamo tre punti c'è anche penso che è molto difficile ecco allora già c'è questa consapevolezza che poi alla fine non c'è nessuna a questo punto non c'è importanza cioè nelle teste dei giocatori penso che perché sia accumulata così lavorando giorno dopo giorno è arrivata là ecco io vorrei che non non cambia niente io vorrei che si va sempre al massimo senza calcoli senza pensieri come ti chiedo ti chiedo soltanto mister se nella tua testa sei andato anche un po' oltre le più rose aspettative in queste 23 giornate se ti immaginavi di fare così bene qui a Verona c'è uno poi non è che immagina o prevede vuole fare e dà il meglio per fare ecco chiaramente sono dei belli risultati sono delle belle prestazioni ci fa ci fa sentire bene contenti non solo me ma perso tutto staff club e giocatori ecco questo è una bellissima cosa che poi c'è anche una brutta perché dopo la gente prende abitudine capito e te non li puoi deludere sia tifosi ma sia noi stessi io penso che poi il giocatore penso che anche capisce che vali quello che che ha espresso ultimamente magari una domenica due capito c'è si può perdere tutto facile in senso che il calcio è il calcio è solo quello che viene cioè non si vive di passato non si c'è da rinconfermarsi c'è da andare avanti come dico sempre se non andiamo avanti non ti basta neanche a stare dove sei perché se stai dove sei altri altri ti sorpassano allora è un continuo un continuo lavoro ecco cioè alla fine in questo sport se vinci se perdi alla fine devi fare fare stesso cioè nella nella mentalità di lavoro e modo di fare questo qua alla fine perché è così ecco non c'è da non c'è da piacersi non c'è da da godere neanche troppo ecco che alla fine è anche una cosa un po' così tra virgolette brutta però se ti godi troppo poi ti va via allora devi andare sempre forte ecco e quando non stai facendo bene allora per forza devi andare allora hai capito è un po' questo mondo così ecco secondo me una delle tue qualità principali mister che tu riesci ad entrare molto nella testa dei tuoi ragazzi sei un grandissimo motivatore e ti chiedo durante la settimana visto che uno dei giocatori che sino a poche settimane fa era sulla bocca di tutti parlo di Giovanni Simeone e nell'ultimo periodo nove partite squalifica compresa non figura più nel tabellone dei marcatori ti chiedo come vedi ragazzo che sul campo comunque sta facendo un lavoro importantissimo però tu mi senti che è un attaccante insomma senza gol gli manca una linfa vitale ha fatto uno domenica che già li diamo li diamo mezzo gol dai li diamo mezzo gol l'ho visto bene l'ho visto sereno l'ho visto questi due tre lamenti anche quando tira che più cioè che lì entra meglio è paloni nella rete ecco è già io posso solo ripetere quello che dico sempre di lui è sempre bello averlo ecco sempre bello averlo da questa parte che da altra parte se non giocarli contro ecco domani sono sicuro che farà una bella gara perché l'ho visto bello bello carico motivato ecco le chiedo mi rilascio un attimo al discorso che ha fatto prima le ha ricevuto qualche critica per il finale per la gestione del finale a Roma magari legittima alcune invece magari non legittime le chiedo è più infastidito per queste critiche considerando che comunque avete raccolto un pareggio di prestigio a Roma oppure la rendo orgoglioso perché significa che davvero vi si chiede sempre di più perché avete raggiunto un livello davvero molto alto non ho letto le critiche no perché lei mi dice prima mia sensazione no perché non leggo allora io penso che abbiamo fatto una grande gara alla Roma che che poi il cambio cambio è un dettaglio che uno può sbagliare non sbagliare non è un problema di ammetterlo non ammetterlo ecco io guardo c'è praticamente un dettaglio che poi uno interpreta come vuole ecco a me mi fa piacere perché perché loro non ci hanno creato un'occasione questo secondo me la cosa capito la cosa importante loro hanno fatto due gol senza due calci d'angolo ecco perché questa è una cosa bella è un'occasione a Roma a giocare così come abbiamo giocato noi di super strameritare tre punti perché dominanti e poi due calci d'angolo abbiamo preso gol secondo me quelle sono le cose che poi li connesso con la domanda che ha fatto il suo collega che dopo gente magari alla fine pensa che è una cosa normale ecco questa che l'ha connesso con con questa domanda qua che sia arrivato a questo livello qua che uno dice ma si va bene cioè Verona si è andata là cioè per me è una per me è una grandissima cosa una cosa che finisce la partita io sono orgoglioso però gente prende questa cosa come normale banale capito e te la puoi vedere come una cosa bella ma anche una cosa brutta capito è da pensare un po' no? chi lo vuole vedere come una bella chi vuole una brutta no? però siamo arrivati a quello quel livello là no? che tocca a voi di non prenderla come una cosa scontata voi giornalisti cioè in senso perché poi tifoso può vivere di no? di pancia di sensazioni di sogni no? no? no?